bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi se mi volete supportare in maniera totalmente gratuita codice creatore xemanuel 97 detto ciò andiamo a vedere quello che è uscito nello shop odierno che è davvero davvero carino c'è victoria saint questa skin rara del valore di 1200 vbac ovviamente in due stili con e senza cappello davvero davvero bella skin per 1200 vbac andiamo avanti abbiamo spatola e spillo questo piccone davvero davvero carino è parecchio tryhard del capitolo 2 stagione 4 500 vbac non comune andiamo avanti ragazzi c'è wix questa skin da 1500 vbac epica andiamo a vedere nei suoi più stili eccola qui ragazzi con questa coda con e senza cappuccio andiamo a rivedere ragazzi davvero davvero tryhard del come skin andiamo avanti ragazzi abbiamo ascia delle fusa capitolo 2 stagione 2 assassina felina 800 vbac anche questa qua raro con più stili ragazzi andiamo avanti ragazzi e abbiamo oblio 2000 vbac leggendaria della stagione 4 vediamola con i suoi stili eccolo qua eccolo qua lo stile della skin color oro davvero luccicante ragazzi poi andiamo avanti c'è criterio questa skin anche questa qua leggendaria del valore di 2000 vbac per averla ragazzi andiamo avanti c'è terminus questo deltaplano del valore di 1200 vbac stagione 4 poi ragazzi andiamo avanti e c'è starter questa skin tryhardissima 1200 vbac della stagione 7 fa parte del set scasso poi ragazzi andiamo avanti c'è bucky questa skin del valore di 1200 vbac con questa maschera rossa in viso andiamola a vedere nei suoi due stili questo qua più scuro poi ragazzi andiamo avanti abbiamo questa musica rara del valore di 200 vbac poi andiamo avanti c'è fianchi ballerini questa emot mobile della stagione 9 500 vbac anche questa qua raro poi abbiamo fatti una risata ragazzi e oggi da fatti una risata 500 vbac stagione 4 rara davvero bella come mot poi c'è piroetta 200 vbac non comune del capitolo 2 stagione 1 poi ragazzi andiamo avanti abbiamo sempre la fortnight crew e per lo shop di oggi è tutto ragazzi se mi volete supportare in maniera totalmente gratuita codice creatore x emanuele 97 e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi